Altri due presunti responsabili della strage di Pentecoste nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo in Nigeria sono stati arrestati. La notizia riportata oggi dall'agenzia Fides fa riferimento all'annuncio del responsabile delle comunicazioni della difesa, il Maggior Akpor, della cattura due giorni fa di Al-Qasim Idris e Abdul Halem Idris a Omulafa nello stato di Hondo. Proprio il 9 agosto l'esercito nigeriano aveva catturato altre quattro persone accusate della strage nella chiesa cattolica grazie ad un'operazione dei servizi segreti e del personale militare. Secondo le autorità alla strage nella chiesa di Owo costata la vita a 40 persone il ferimento di 80 è opera dello stato islamico nella provincia dell'Africa occidentale. L'organizzazione in sigla ISVAP ha compiuto una serie di attacchi ed è responsabile anche dell'assalto alla prigione di Abuja all'inizio di luglio che ha permesso la fuga di oltre 400 detenuti in gran parte poi catturati dalle forze dell'ordine. La conferenza episcopale locale ha più volte messo in guardia sulla situazione della sicurezza nel paese ormai fuori controllo.